Sono qua con i colleghi con i quali abbiamo tenuto il convegno stamattina che sostanzialmente ha voluto, l'intervista multipla anche in questo senso, ha voluto mettere l'accento sul gioco di squadra. Il gioco di squadra tra tutti gli attori coinvolti nel grande tema della riqualificazione dei nostri edifici e quindi tutti gli attori partendo dai progettisti per proseguire con gli operatori ma ultimi ma non minori gli amministratori quindi proprietari che ovviamente hanno interesse alla riqualificazione e questa riesce meglio se a cominciare da loro hanno quel grado di consapevolezza che abbiamo voluto mettere in campo con questo convegno di stamattina ma soprattutto con le attività che facciamo tutti i giorni ognuno nel proprio posto di lavoro. Quindi come dire l'altro grande tema è quello appunto di condividere i dati anche attraverso una serie di strumenti come i protocolli, i marchi, ce ne sono d'accordo con i colleghi di ogni tipo però il tema vero è che i marchi ci devono aiutare come mezzo per il fine ulteriore cioè avere l'evidenza provata e numerica che quello è un intervento fatto bene. L'altra cosa e mi spengo per poi passare la palla diciamo agli operatori, l'altro tema è il gioco di squadra il gioco di squadra che davvero ci deve vedere uniti tecnicamente e dico anche politicamente perché è un mio mantra ma le questioni non sono mai solo tecniche o solo politiche ma è sempre un mix delle due quindi se conosci bene la tecnica, conosci bene le cose, ne hai consapevolezze riesci anche meglio a rappresentare in sede politica, in sede normativa diciamo le istanze di coloro che vogliono operare correttamente per dare un futuro diciamo sostenibile al nostro paese. Dunque il mio ruolo stamattina è stato quello di denunciare alcune magagne di questa operazione ossia io partecipo forse da 30 anni all'ambiente normativo e sulla contabilizzazione non ne siamo ancora venuti a capo perché evidentemente si toccano troppi interessi. Il gioco di squadra è quello che ci ha consentito di sventare certe variazioni della normativa a vantaggio solo di alcuni produttori poco odessi e di riuscire ad avere una norma non è ancora finita la stiamo aspettando però i voti che sono stati fatti fanno ben sperare di avere una normativa corretta finalmente. Un'altra questione di cui stavamo parlando proprio in questo momento è che la contabilizzazione è stata presa a sé stante quando invece dovrebbe essere l'elemento preliminare per poter fare risparmio energetico ossia se si fa solo quella contabilizzando ci sarà chi spende di più chi spende di meno e quindi qualcuno scontento c'è sempre. Se invece si fanno altre opere di risparmio energetico come il cappotto come la sostituzione della caldaia eccetera dove ci sia una forte riduzione dei consumi risparmiano tutti e quindi l'intervento è molto più gradito. Il problema qui è che non ci sono i soldi nei condomini per cui adesso il gioco di squadra dovrebbe servire a ottenere dal ministero un qualche fondo lottativo, un qualche finanziamento che consenta ai condomini di risparmiare perché fin quando non hanno i soldi e continuano a consumare troppo la ripresa economica diventa difficile insomma. Se cominciamo invece a consentirgli di risparmiare forse qualcosa migliorerà. Abbiamo preso parte a questa lodevole iniziativa e ci siamo anche trovati molto in sintonia cercando di portare alcune case interessanti e soprattutto dimostrare come anche protocolli di certificazione volontaria della sostenibilità dell'edificio possono contribuire a mettere a disposizione degli strumenti interessanti per lo sviluppo della sostenibilità intesa anche come confort abitativo. Nel caso poi dei condomini il protocollo di cui abbiamo discusso e parlato e ragionato insieme è GBC Condomini e faccio il punto su due aspetti sui quali mi paiono particolarmente interessanti. Il primo è la necessità forte e manifestata da tutti di passare attraverso logiche di progettazione e realizzazione integrata, quindi ognuno con le proprie competenze ma si lavora insieme verso obiettivi comuni. Dall'altra parte di poter dotare gli interventi di riqualificazione all'esistente anche di strumenti che costituiscano, che siano in grado di diventare un driver di mercato. Questo è un po' l'obiettivo che come GBC complessivamente ci si è posti e fa molto piacere vedere che ci sono compagni d'avventura importanti. Grazie. Io qui rappresento la proprietà di tutti i condomini di cui si è parlato fino ad ora essendo Presidente Provinciale di Anacci Modena. Volevo sottolineare l'aspetto della squadra, quindi di tutte le competenze tecniche e professionali che se messe insieme riescono a portare un ottimo prodotto e per ottimo prodotto intendo dire quello che siamo riusciti a realizzare a Modena facendo formazione comune in materia di termoregolazione e contabilizzazione. Siamo riusciti a mettere in pari tutto il parco condomini esistente. Adesso è chiaro, come diceva l'ingegnere Soma, si tratta di vedere anche la qualità di questi interventi anche se in realtà sono abbastanza ottimisti da questo punto di vista perché tutto è stato fatto seguendo un disciplinare ben preciso. Chiaro che questo è un po' il verbo comune, il sostantivo comune, il driver perché tutti questi interventi che noi andiamo a fare, che siano la termoregolazione e la contabilizzazione che siano studi di protocolli, che sia quello che è, non fanno altro che evidenziare quelle che sono le reali necessità dei fabbricati che noi amministriamo e quindi da qui partire con analisi successive per fare efficientamento vero e quindi per andare a mettere i fabbricati in condizioni di essere performanti da un punto di vista di sicurezza, di risparmio energetico, di comfort. Tutto questo, chiaro, come si diceva, ha necessità di risorse finanziarie, oggi purtroppo non ce ne sono tante e comunque si confida nel fatto che un po' con gli sgravi fiscali, un po' con magari la possibilità di aderire a fondi di investimento si possa intervenire per cercare di arrivare a migliorare a quello che è il Parco Condomini Italiano.